non mi faccio la doccia da una settimana e qualche giorno eh forse è il periodo più lungo che no non è vero vabbè no forse si raga non ne ho bisogno non ne ho bisogno allora mi lavo le palle e il cazzo e il culo anche perché il bidet me lo faccio tutti i giorni la faccio me la lavo mirato mentre mirato mi pulisco i piedi me li lavo le ascelle me ne lavo che devo pulire è finito Giulia conferma che non puzzo oh brothers io qua sto una crema diciamo la verità mi sto prendendo poco cura dell'igiene in generale a parte faccio il minimo indispensabile e già qua ci siamo ho fatto una lavatrice oggi perché ho finito i vestiti sto utilizzando molto spesso i vestiti sporchi però non fumo sudo poco quante volte si lavavano tipo nel medioevo parte delle persone nel medioevo si lavava mani faccia e piedi ogni giorno mano faccia e piedi e cazzo e culo basta poiché erano parti del corpo visibili in pubblico non serve niente ma non siamo nel medioevo ma che cazzo vuoi ma c'è chi c'è chi mantiene le abitudini no chi è che tipo ancora usa il telefono e manda gli sms col col t9 ah ci saranno persone nel mondo lo fanno no grazie grazie a tutti grazie a tutti